Allora, siamo con Fabiano Rebeggiani che ci sta chiamando dalla Sud Corea, da Busan, che è una città nel sud della Sud Corea. Facciamo questa breve introduzione con lui. Qual è l'idea di questa conversazione? L'idea è che il modo migliore per vivere il proprio microcosmo, la propria vita quotidiana dove uno è, in questo Natale del Covid così complicato, il modo più bello per viverlo non è quello di abbassare lo sguardo sui propri problemi, ma allargarlo, allargarlo al mondo e se questo vale non solo per tutti gli uomini, vale soprattutto per la comunità cristiana, quindi una comunione che spazia sicuramente tutti i confini geografici e le distanze. Vorrei cominciare con una brevissima introduzione di Fabiano. Fabiano, ci racconti un pochino chi sei, cosa stai facendo in Sud Corea, qual è il tuo lavoro, la tua storia. Sì, io sono di Roma, ho 38 anni, sono di agono in questo momento, appartengo alla diocesi di Seoul, seminario Redemptoris Mother, che sono questi seminari del cammino neocatecumenale. Sono in Corea da sei anni e sono stato mandato qui perché è nato questo nuovo seminario Redemptoris Mother, come gruppo fondatore di questo primo seminario in Corea del Sud, seminario voluto dal Cardinal Yom, che è l'Arcivescovo di Seoul. E niente, siamo un piccolo seminario di 12 seminaristi, in una diocesi molto grande, che è storicamente molto cresciuta, con noi quest'anno vengono ordinati 20 diaconi, quindi sono numeri molto grandi per una diocesi di missione, tra virgolette. E niente, io prima ero un bancario, un piegato bancario del gruppo Intesa San Paolo, all'età di 28 anni ho lasciato tutto, perché ho sentito che Dio mi amava così com'ero, peccatore, per questo amore ho mollato tutto, capito? Ho mollato la mia vita, il mio lavoro, la mia Volkswagen Golf, e mi sono messo nelle mani del Signore, fai tu, gli ho detto, senza pensare che mi avrebbe mandato dall'altro capo del mondo. Ho fatto tre anni di seminario a Roma, mi sono laureato in filosofia alla gregoriana, poi ho fatto un anno di teologia e poi sono stato inviato in Corea. In Corea ho fatto due anni di lingua, vivendo nelle famiglie coreane. È stata un'esperienza kenotica, potrei dire, perché sono arrivato qui e sono ridiventato bambino. Qualsiasi cosa bisognava chiedere, l'unico linguaggio che potevamo usare era quello del corpo, perché anche qui l'inglese non è che sia tanto conosciuto. Molto bello, ho sentito l'amore dei fratelli coreani che ci hanno accolto nelle loro case come dei figli. E dopo due anni di studio di lingua nella università, si chiama Sogang, che è dei gesuiti qui a Seoul, sono entrato nella Università Cattolica di Seoul, dove ho fatto il baccellierato, ho finito in teologia e poi mi sono laureato proprio quest'anno in teologia sistematica. Cosa stai facendo in questo momento? Stai lavorando come parroco? Stai facendo missione? Stai insegnando? No, adesso praticamente qui in Corea fino all'ordinazione si sta in seminario. Quindi io ho seguito le lezioni durante questo semestre e contemporaneamente seguivo le comunità, le comunità neocuoto comunali qui. Seguivo una comunità, facevo la liturgia della parola e poi abbiamo fatto varie missioni popolari, abbiamo fatto una missione due a due per tutto il paese visitando tutte le diocesi e abbiamo fatto diverse catechesi in varie città della Corea e insomma così. Per il momento questo, dopo l'ordinazione, dovrei andare in parrocchia. sono tra virgolette, lo dico con molta umiltà, sono un personaggio storico qua perché sono il primo straniero che verrà incardinato nella diocesi di Seul praticamente e tutti quanti diciamo che ho un po' gli occhi addosso. Immaginate che la diocesi di Seul ci sono tantissimi preti, è una diocesi che di fatto non avrebbe bisogno di missionari perché è una diocesi completamente... un milione e mezzo di fedeli, tre quattrocento presbiteri se non sbaglio, insomma una diocesi grossa, però il Cardinale Om ha voluto inserire in questa diocesi, nella sua arcidiocesi, un seminario missionario perché ha a cuore la missione e soprattutto ha a cuore la missione della Corea del Nord. Lui crede fermamente che il regime di Pyongyang possa cadere e che si possa entrare ed evangelizzare nei prossimi anni. Una cosa interessante, è un uomo che ha molta fede, che è il Cardinale di Seul. I suoi antenati sono stati martiri nel periodo delle persecuzioni, quindi un uomo veramente con una fede forte e lui ha fatto un gesto molto simbolico che fece a suo tempo Giovanni Paolo II, che consacrò la Russia alla Madonna di Fatima e poi dopo pochi anni il regime comunista che si sembrava incrollabile è stato collassato. E anche qui in Corea l'anno scorso, quest'anno a giugno, nell'anniversario della guerra civile, ha fatto una messa in cui ha consacrato la Corea del Nord alla Vergine di Fatima, molto bella e niente, stiamo sperando che il Signore apra l'evangelizzazione della Corea del Nord. Siamo pronti! E senti Fabiano, questa comunità cristiana a cui tu appartieni della Sud Corea è molto numerosa, grossa, mi dicevi che ci sono tanti preti, quindi non è una minoranza così piccola. Come vive questa comunità cristiana in un paese così per noi lontano e diverso? Considera che i cattolici sono il 10% della popolazione, su 50 milioni di abitanti, il secondo paese asiatico con più cattolici dopo le Filippine, quindi stiamo parlando di un gigante. Una chiesa che è nata sul sangue dei martiri, fondamentalmente. C'è una storia particolare, sarebbe lunga la storia coreana, però la chiesa coreana è nata senza missionari. Alcuni nobili coreani andarono in Cina e entrarono in contatto con questi libri di sapienza, dicevano che erano il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Vangelo. Uno di questi si fece battezzare e li riportò in Corea e senza sapere niente della gerarchia, della chiesa, eccetera, fondò delle comunità cristiane. Incredibile. E poi dopo un po' si rimisero in contatto con questo presbitero cinese e gli dicevano ma voi non potete fare battezzare così, eccetera, c'è bisogno di stare. Allora arrivò un prete cinese e poi arrivarono i missionari delle missioni estere di Parigi e poi è iniziato il periodo delle persecuzioni, insomma, fondamentalmente. Quindi questa è la chiesa coreana, una chiesa nata sul sangue dei martiri. E adesso questa comunità, diciamo, negli anni subito durante la dittatura di Pak Jong-i e subito dopo, le dittature militari, qui ci sono state fino all'88, fino alle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono il primo periodo in cui c'è la democrazia. La Chiesa Cattolica era un po' contro il regime, diciamo così. E questo qui ha favorito la nascita e la crescita di chiese protestanti che erano finanziate dagli Stati Uniti, no? Proprio perché la Chiesa Coreana svoltava un po' a sinistra così. Quindi i protestanti qua in Corea sono il 20% della popolazione. Grossa, una porzione grossa. L'altro 20% sono buddhisti. Tantissimo. Quindi 30% di cristiani sul Corea in totale. Un terzo di... 30% di cristiani. Esatto. Pazzesco. 30% di cristiani. E senti, come vive questa comunità cristiana e la comunità cattolica in particolare questo Natale del Covid così particolare? Com'è la situazione in Sud Corea al momento? Come è andato quest'anno? Come è stato... Noi arrivano notizie sempre un po' strane. Un utente tende sempre un po' a fermarsi al proprio circolino. Ma cosa è successo in Sud Corea brevemente? E cosa sta succedendo in particolare in questo mese di dicembre? Allora, la Corea, come forse sapete, è stato uno dei paesi che ha risposto meglio al coronavirus, a livello di misure di prevenzione e di contenimento del contagio. Per un motivo molto semplice, perché prima ancora che ci fosse l'esplosione del virus c'erano dei protocolli pronti, che erano stati fatti dopo i casi della Merz e della Sars. La Cina è vicina qui. Sono un miliardo e mezzo di persone, quindi loro avevano paura e già avevano preparato tutto. Erano pronti. In questo contesto qui è successo un fatto che ha avuto delle ripercussioni sulla Chiesa e sulle religioni in generale. Il virus è entrato in Corea a causa di una setta protestante, che si chiama Shinzonji, che sarebbe nuovo cielo e nuova terra, significa. E che cosa hanno fatto? Questi qui hanno violato, diciamo, le misure di prevenzione, hanno fatto un mega raduno ed è partito il contagio. Quindi questo te lo dico perché hanno legato lo spread, diciamo, del contagio agli eventi religiosi. Quindi questo ci ha avuto delle ripercussioni sulla vita della Chiesa. Che cosa è successo? Praticamente ogni qualvolta che il numero di contagiati aumentava, si chiudevano le Chiese, veniva chiusa la Messa, i sacramenti, oppure ridotto il numero dei fedeli alla Messa, eccetera. Diciamo, all'inizio è stato così, a febbraio, marzo e aprile. Poi, durante l'estate, il contagio è calato, si è ritornato in una vita normale, i coreani sono molto obbedienti, molto obbedienti e lo Stato è superorganizzato. La cultura confuciana aiuta in questo. E cosa è successo? Che alla fine, adesso, diciamo all'inizio d'ottobre e novembre, sono riniziati ad aumentare i contagi. Siamo arrivati a mille contagi al giorno. Che per i coreani è molto alto, anche se magari per i nostri parametri è ancora una cosa contenuta. Con pochissimi morti, peraltro, perché gli ospedali funzionano. E quindi, in questo momento, le Chiese di nuovo le hanno chiuse, siamo a livello di emergenza 2.5. Qui, nella diocese di Pusano, dove sono io a fare le vacanze, non stanno facendo le messe, fanno le messe soltanto su YouTube, in streaming. Nella diocese di Seul, invece, fanno le messe, ma fino a 20 persone possono partecipare. Quindi, la comunità cristiana si sta cercando di organizzare un po', alcune parrocchie stanno aumentando il numero delle messe, per poter far partecipare più fedeli possibili. Qui a Pusan, invece, stanno facendo, hanno puntato più sull'online, hanno molta paura del contagio, quindi le Chiese sono chiuse. La cosa interessante che noi abbiamo sperimentato, le nostre comunità, è stata la forza delle celebrazioni domestiche, delle famiglie. E questo qui, in due occasioni, l'abbiamo sperimentato. Una, nella Pasqua. Il trito pasquale nelle famiglie è stata una bomba. Sono state fatte la lavanda dei piedi nelle famiglie, in cui il padre famiglia ha lavato i piedi ai figli. È stato un momento di comunione, di riconciliazione. La veglia pasquale, una bomba incredibile, con i figli, la trasmissione della fede, bellissimo. Con le case tutte con dignità arredate. Questi fratelli coreani veramente ci hanno stupiti. E adesso anche la preparazione del Natale sarà un secondo evento, che anche qui, noi come cammino neocodomenale abbiamo invitato i fratelli a fare la celebrazione del Natale in famiglia e di fare una piccola liturgia davanti al presepe, con i vespri solenni, proclamare le letture del giorno, con i bambini, eccetera. Sempre nell'ottica di trasmissione della fede, eccetera. E stiamo vedendo una risposta forte da parte dei fedeli, dei fratelli di qua e soprattutto di situazioni di familiari complicate, difficili, che proprio grazie a questa situazione del coronavirus hanno compattato le famiglie, ci sono stati dei eventi di riconciliazione, di comunione. Ed è stato veramente un dono del Signore, ecco. Senti, ti ringrazio tantissimo di questa conversazione che personalmente mi riempie il cuore di speranza anche perché molto spesso uno si stacca da quello che è la sua realtà più vicina alla famiglia e pensa magari a quella media distanza ignorando quella a lunga distanza. Invece alcune volte aprire lo sguardo a lunga distanza aiuta anche a vivere di più la piccolissima distanza che vuol dire poi la vita familiare. Sarà un inizio, Fabiano, perché come avete sentito la storia di Fabiano è interessantissima, quindi gli facciamo tanti auguri di Natale, li chiediamo per concludere se ci fa gli auguri di Natale in coreano, ma ci rivedremo poi più avanti nel nuovo anno per continuare a questa conversazione. Tanti auguri, buon Natale, caro Fabiano. Grazie, io ero buono a te, sono tanto ciò che mi dà.